350 oli in concorso, convegni, laboratori, mostre, degustazioni e cultura con il festival dell'olivicoltura etica. Da lunedì a venerdì prossimi Bari sarà la capitale mondiale dell'olio biologico. Il capologo pugliese infatti ospiterà la quindicesima edizione del premio Biol, la kermesse internazionale dedicata all'olivicoltura biologica. 17 i paesi in competizione dall'Albania all'Arabia Saudita, dall'Israele alla Spagna. È la prima volta che realizziamo il premio Biol a Bari e lo merita perché è la capitale della Puglia, la regione più olivicola d'Italia, la regione più olivicola del mondo e quindi è giusto che sia il capoluogo ad accogliere questa manifestazione. Noi in cambio stiamo tentando di coinvolgere un po' tutta la città. La parte culturale della manifestazione sarà ospitata nell'Istituto Statale Majorana di Bari dove venerdì prossimo la giuria assegnerà i premi al miglior olio bio dell'anno. Particolarità di questa edizione le numerose iniziative in strada che si svolgeranno tra Piazza del Ferrarese e l'Auditorium Lavallisa. Tra queste anche una riservata ai bambini assaggiatori di olio nelle scuole. Un'occasione per riconoscere la Puglia come regione leader nella produzione di olio biologico con i suoi 118 mila ettari di coltivazioni dedicate sulle quali operano oltre 5 mila imprese, dati che rappresentano il 30% della produzione nazionale. Grazie.